Devo dire che la settimana del design a Milano succedono sempre delle cose interessanti e importanti. Una delle cose più importanti sarà proprio questo progetto. Ci sono soluzioni che lasciano ben sperare nell'uso di questa piazza che si potrà fare in questa settimana grazie a questi tre progetti e partire da questi tre progetti e riuscire a utilizzare la piazza anche nei giorni successivi che è un po' il fine ultimo. In realtà i progetti sono per adesso solo dei concept e si lavorerà in questi due mesi da qui dall'oggi alla settimana del design riuscirà quindi a risolvere alcune problematiche che sono evidenti nel momento in cui si passa dalla carta alla fisicità dell'oggetto. Sono fiducioso, saranno tre risultati notevoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.